Ciao a tutti, sono Stefano di LG. Oggi vedremo come sfruttare al meglio gli spazi dei cestelli delle nostre lavastoviglie quad wash. Ok, andiamo ad aprire la lavastoviglie. Nel cestello inferiore tutte le griglie pieghevoli sono regolabili. Mentre per il cestello centrale è possibile regolare la fila di sinistra e i due supporti laterali. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!